Con il ritorno dell'Abruzzo in zona arancione sono tornate anche nelle scuole medie di Pescara di seconda e terza media le lezioni in presenza. Assessore Santilli si è ripartiti nella massima tranquillità ovviamente con una grande attenzione. L'attenzione non deve mai mancare quindi le regole vanno sempre rispettate. Il famoso distanziamento, il lavaggio delle mani e la mascherina. Ieri con grande soddisfazione da parte dei ragazzi ma anche da parte dei presidi siamo tornati a scuola regolarmente. Aspettavamo questo momento perché l'educazione a distanza è vero che è positiva farla però in presenza è un discorso completamente diverso. Il rapporto tra i ragazzi, tra gli insegnanti con i ragazzi quindi la scuola è questa. Sto facendo il giro delle scuole in questi giorni con i presidi proprio per sentirli e confrontarmi con loro come abbiamo sempre fatto in questo periodo però la situazione l'ho trovata veramente molto ma molto positiva. Tutto tranquillo, tutto funziona regolarmente, i ragazzi sono molto bravi, rispettano le regole. C'è un po' da parte dei genitori ancora che non riescono a capire che all'esterno della scuola bisogna stare distanti, bisogna mettere le mascherine però ripeto noi siamo contenti dal comportamento da parte dei ragazzi che è veramente un segnale molto positivo. Ultimamente devo dire la verità, ormai sono 15 giorni che non abbiamo più casi nelle nostre scuole, speriamo che non succeda più ma questo è un segnale perché? Perché significa che i ragazzi rispettano le regole. Quindi nel momento in cui i ragazzi rispettano le regole e rispettano quel distanziamento, la mascherina, il lavaggio delle mani, tutto funziona per il meglio per tutti.